Salve a tutti e benvenuti su AlpsTV, all for your time, prima o poi viene buona to AlpsTV, andiamo a un'altra piccola canzoncina dal titolo Maletiempo, vado, 1, 2, 3, adesso si ci mette pure il tempo creando enormi difficoltà, enormi difficoltà era risaputo che nell'inverno facce male di me, non si può comunque sempre lavorare, ma sempre lavorare ma le burattine tutto questo non lo potevano sapere, non lo potevano sapere perché erano impegnate a firmare il loro assegno per incassarle e poterselo tranquillamente godere tranquillamente godere, tanto oramai è passato tutto il 2021 e la gente sa in che condizioni andremo nel 2022, un mese più un mese meno, sperando che finalmente i lavori finiscono visto le assurde, eterne e mai poche restrizioni, visto le assurde, eterne e mai poche restrizioni adesso si ci mette pure il tempo creando enormi difficoltà era risaputo che nell'inverno facce male di me, non si può comunque sempre lavorare, ma sempre lavorare ma le burattine tutto questo non lo potevano sapere, non lo potevano sapere perché erano impegnati a firmare il loro assegno per incassarlo e poterselo tranquillamente godere tranquillamente godere tanto oramai è passato tutto il 2021 e la gente sa in che condizioni andremo nel 2022, un mese più, un mese meno, sperando che finalmente, finalmente i lavori finiscono visto le assurde, eterne e mai poche restrizioni visto le assurde, eterne, eterne e mai poche restrizioni e speriamo, allpits tv, all for you, tanto prima o poi viene a porre tu, vorrei ciò, ma quanto mai cavallone gigante per tutti quanti con questo vi saluto e vi rimando alle prossime cose sempre allpits tv, all for you, tanto prima o poi viene a porre tu, arrivederci